La seconda lettura La seconda lettura La terza settimana il solfeggio parlato La quarta settimana il solfeggio cantato Però per comodità mia e vostra Metto tutto insieme in questo video Ovviamente una volta che avete fatto il primo step Che è quello ritmico Vi catapultate a fare il secondo eccetera eccetera Fatemi sapere come vi trovate Allora, tanto per cominciare un po' di informazioni Per quanto riguarda le durate delle pause e delle note Vedete qui c'è la prima pausa che è la pausa che dura 4 quarti Qui c'è la prima nota tonda senza stanghetta che dura 4 quarti La nota tonda con stanghetta che dura 2 quarti La nota nera con stanghetta che dura 1 quarto La nota nera con stanghetta e questa virgoletta qui Dura 1 ottavo Vuol dire che in 1 quarto ce ne sono 2 Come facciamo per orientarci? Allora, i quarti sono 4 Quindi 1, 2, 3 e 4 Sentite, quando io li leggo sono già divisi in 2 1, 2 e 3 e 4 Ok? Quindi questa pausa qui io la leggerò 1, 2 e 3 e 4 Questa nota qui, allora le note nel solfeggio ritmico Non le chiamiamo col loro nome Ma gli diamo un nome simbolico di TA Quindi in 1 quarto ci stanno due ottavi Quindi ci sta un TA-A Primo quarto TA-A Secondo quarto A-A Terzo quarto A-A Quarto quarto A-A Perché questa nota qua vale 4 quarti Quindi la leggerò così TA-A-A-A-A-A-A-A Questa nota qui invece vale 2 quarti Quindi la leggerò TA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- ne stanno due e le leggerò così, ta, 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 ta. Per arrivare alla nota di due quarti che leggerò ta, a, a, a. Altre quattro note da un ottavo, quindi ta, 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 ta. Altra nota da due quarti, ta, a, a, a. Altre note da un ottavo, quindi ta, 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 ta. Da un quarto, ta, a, ta, a. Adesso vado avanti col cursore e ve le leggo non a tempo, ma insomma così capite bene come funziona l'esercizio. Quindi ta, a, ta, a, ta, a, ta, a, ta, a, 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 ta, a, a, a. Ta, a, 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 a. Ta, 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 a, ta, a, ta, a uno. Le pause le leggiamo con i numeri, ok? Quindi questa pausa dura uno. Questa pausa qui dura invece uno, due, tre e quattro, mentre questa dura uno, due. Quindi questa battuta qui la leggerò. A, ta, a, 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 ta, a, 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 uno, due. Finita la parte ritmica. Eccoci adesso al secondo esercizio, quello di lettura, in cui non mi interessano le pause, mi interessano soltanto le note, non mi interessa la loro durata, mi interessa soltanto il nome della nota, va bene? Questo esercizio lo farò così. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, do, do, re, mi, fa, sol, mi, mi, fa, sol, la, do, la, si, sol, la, fa. Do, fa, mi, fa, do, fa, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, do, sol, fa. Ovviamente se non ce la fate a questa velocità qui vi stampate lo spartitino che c'è sulla pagina del sito oppure ve lo guardate sul telefono, sul tablet e lo fate al ritmo, alla velocità alla quale voi riuscite a farlo. Quando siete padroni dei due esercizi, il primo sul ritmo e il secondo sul nome delle note, possiamo passare a fare il terzo esercizio che è quello del solfeggio parlato. Proviamolo. Uno, due, tre e quattro. Do, do, o, 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 o Sol, La, Fa, Do, O, Fa, Re, E, 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 Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Fa, Mi, Fa, Uno, Uno, Due, Tre, E, Quattro, Do, O, Re, E, Quattro, Re, E, Uno, Mi, I, Uno, Fa, Sol, Do, O, La, Si, I, Do, O, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Do, O, O, So, Fa, A, 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 Uno, Due. Allora via col cantato, solfeggio cantato. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do. Do, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Mi, Fa, Sol, La, Do, La, Si, Sol, La, Fa, Do, Fa, Re. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Do, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Do, Sol, Fa